Salve a tutti popolo del web, rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus. Se ancora non ti sei iscritto al canale bastano pochi secondi così avrai sempre una notifica di nuovi video. Dopo un anno Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus. Buffon aveva deciso di fare una nuova esperienza andando in Francia al PSG, ma dopo un anno si vede che la dirigenza del PSG e Buffon non si sono trovati e giustamente si sono divise le loro strade. Adesso Buffon sarà il secondo di Chesley. Beh, devo dire la verità, questa scelta è più una scelta di cuore, ne sono più che convinto. Prendo spunto da una canzone, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Diciamo che calza a pennello questa canzone per la Juventus e Gianluigi Buffon. Alla Juventus i ritorni non sono mai graditi, questo è poco ma sicuro. Questa diciamo che secondo me è il primo grande ritorno. Sicuramente farà bene Gianluigi Buffon perché è un grande portiere numero uno. Di così ce ne sono pochi. E vabbè, fare degli errori si fanno. Purtroppo non sempre le ciambelle riescono col buco. Buffon io ti auguro che sia un anno pieno di soddisfazioni. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Guagliù, ma raccomando. Mettiamo un like con i video. Condividiamo i video in coppie social Facebook, Twitter e Instagram. Io vi voglio bene a tutti quando ci vedremo al prossimo video. Ciao Guagliù! Ciao! 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 Ciao!